Torna a Lerici per il quinto anno, la rassegna Mythos Logos ormai è diventato un appuntamento davvero tradizionale che caratterizza un po' l'estate Lericina, tantissimi eventi dislocati su tutto il territorio a partire da domani sera. Sì, da domani sera qui alla Rotonda Vassallo, quest'anno Angelo Tonelli ci regala una Mythos Logos d'eccezione. Appunto ciò che a me piace molto di Mythos Logos, oltre che i contenuti perché parliamo della cultura classica, diciamo quindi cultura di livello e con le capacità di Angelo Tonelli il livello è assicurato. Ma l'aspetto più bello è poi che tutto si svolge su tutto il territorio del comune, nelle nostre frazioni diciamo sul mare, San Terenzo, Lerici e Tellaro avremo degli eventi di qualità assoluta. Io invito tutti a presenziare, a venire a vedere, a partecipare a queste serate perché sono serate che daranno molta soddisfazione al pubblico. Quindi quest'anno diciamo che Mythos Logos decolla finalmente come evento culturale di altissima qualità. 24 gli eventi in calendario dedicati appunto all'antichità, alla storia greca e latina, 24 eventi dislocati sul territorio, si parte domani, quali sono gli appuntamenti più salienti? Per me ovviamente sono salienti tutti, però cominciamo domani sera, viene Umberto Galimberti, uno dei più grandi conoscitori della filosofia della sapienza occidentali, grande studioso, professore emerito, che ci parlerà della sapienza greca alle 21 e poi ci sarà preceduto comunque da un concerto di due liceali di deccezione e questo sarà l'inizio ufficiale, abbiamo già avuto una sorta di evento preparatorio che è stata a Tellaro con il coinvolgimento di tutto il paese e poi ci saranno tra gli appuntamenti importanti il 5 a Parcoscelli, avremo il professore Enrico Facco a parlare della questione della coscienza in vita e in morte da Pitagora alla fisica quantistica. Si parla di cultura, filosofia, temi impegnativi, ma forse il punto di forza di questa rassegna è proprio quello di saperli trasmettere in modo davvero coinvolgente, risultando anche una comunicazione che va anche in direzione verso i giovani. Sicuramente, infatti abbiamo sempre avuto tantissimi giovani oltre ai liceali, per esempio all'evento preparatorio a Tellaro c'erano una ventina di ragazzi che hanno partecipato attivamente alla performance itinerante e sono sempre presenti, faranno anche resoconti degli eventi e delle conferenze e poi c'è un pubblico di giovani attento, abbiamo avuto sempre una grande affluenza anche per i temi più ardui.